Oggi andiamo a vedere come inserire un testo all'interno di un'immagine con Inkscape. Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Avete presente quelle pubblicità che ci sono delle immagini di animali all'interno delle scritte, magari sulla mezza faccia di un animale? C'era un'azienda di articoli sportivi molto importante che faceva queste cose qui. Ora voglio farvi vedere con Inkscape come è fattibile realizzare questi progetti perché sono molto interessanti da utilizzare anche per inciderli con il laser su piastrelle o su tele. Io purtroppo non ho disponibile una piastrella, farò un'incisione sul legno. Al momento ho disponibile dell'MDF, quindi l'incisione ve la farò vedere sull'MDF. Però queste immagini sono calcolate per essere incise su delle piastrelle e su delle tele. Prima di tutto voglio ringraziare i nuovi abbonati al canale e se vi interessa abbonarvi anche voi al canale trovate il link qui sotto nella descrizione oppure potete cliccare direttamente sul tasto abbonati. Con questa tipologia di abbonamento avete la possibilità di vedere in anticipo i miei video. E mi raccomando se non l'avete fatto iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina e lasciatemi un bel like se vi piacciono questi video. Bene, non perdiamo tempo, passiamo su Inkscape e vi faccio vedere come inserire questi testi all'interno di un'immagine. Bene, eccoci qui su Inkscape. Allora la prima cosa a fare è ovviamente prendere l'immagine. Quindi andiamo su file apri e andiamo a selezionare l'immagine. Questa qui del leone è perfetta per quello che voglio farvi vedere. Allora la prima cosa è dimensionare l'immagine, scegliete la dimensione che ritenete migliore. Quindi partiamo da, qui mettiamo in millimetri ovviamente perché era in pixel e mettiamo 200 mm che va più che bene. Andiamo su file proprietà del documento e impostiamo la pagina, anche questa a 200 mm. Qui mettete millimetri, ok, 200, 200, perfetto. E abbiamo la nostra pagina impostata. Allora l'idea è quella di inserire delle scritte all'interno del leone. Ma sono delle scritte particolari. Mi ricordo che una volta c'erano delle pubblicità abbastanza conosciute che inserirono le scritte sulla mezza faccia dell'animale. Quindi adesso vi faccio vedere passaggio per passaggio come fare questa operazione. Allora per prima cosa andiamo sul strumento rettangolo e andiamo a segnare un rettangolo prendendo metà della faccia del leone. Quindi andiamo qui, prendiamo metà della faccia più o meno, poi lo spostiamo, lo spostiamo un attimo fino a che ha preso metà della faccia. Perfetto, gli diamo del nero, benissimo. E noi abbiamo la metà della faccia. Ora questo sfondo nero, questo rettangolo, dobbiamo portarlo dietro l'immagine. Quindi tasto destro del mouse, livelli oggetti. E spostiamo il rettangolo dietro. E questo ci servirà dopo. Ora dobbiamo creare il contorno dove andare a inserire il testo. Quindi andiamo sul nostro strumento penna, che è questo qui, e andiamo a selezionare tutto il contorno. Mi insegna un trucco. Tenendo schiacciato il tasto sinistro del mouse e il control, tirate delle linee dritte. Come vedete, lui forma degli angoli. Quindi questo è il punto zero, chiamiamolo così. Mollate e avete la vostra linea dritta. Ora continuate per creare il tracciato. Sempre col tasto sinistro. Vado in fondo, schiaccio il tasto sinistro, schiaccio, schiaccio, finché creo il contorno attorno il leone. Quello che a me interessa, perché venga fuori il testo. Non vi preoccupate se andate, lo fate troppo all'interno, troppo all'esterno, che poi con i nodi lo andiamo a sistemare. Quindi andate tranquilli, veloci, senza nessun problema. E andate a congiungervi. Come vedete si forma nero, però adesso magari gli diamo un altro colore, gli diamo un giallo, in maniera che si riesce a capire meglio cosa abbiamo fatto. Ora, se volete modificare, come vi dicevo, andate qui su strumento nodo e potete spostare, potete fare quello che volete. Potete creare anche altri nodi, facendo doppio clic, così si creano altri nodi. A me va bene, perché intanto mi interessa farvi vedere come funziona questo testo all'interno dell'immagine. Una volta che abbiamo creato il nostro contorno, dobbiamo passare al testo. Allora, andiamo sulla lettera qui, A, che è quella di strumento testo, e andiamo a inserire il testo. Io ho già copiato un testo che ho preso da internet, ho preso un testo a caso, giusto per farvi vedere, e lo incolliamo. Ed ecco, questo è il mio testo. Magari a posto di giallo, gli do bianco, che è più capibile. Non vi preoccupate se è tutto dritto, non ha nessun problema. Ovviamente io come carattere sceglierò questo qui, che è quello che mi piace di più. Lo trovate tranquillamente facendo una ricerca di Google. Basta scrivete font inter e vi viene fuori il font da poter scaricare gratuitamente. Poi valutate voi di font, potete mettere quello che volete. A me piace questo. Una volta che avete la scritta, dovete selezionare sia la scritta, che lo sfondo giallo. Per non stare lì a diventare pazzi, andare a ricerca, che magari va a prendere l'immagine e non lo sfondo giallo, io mi tengo sempre i livelli accesi. Quindi, il testo è già selezionato. Tengo il tasto Shift, clic sinistro del mouse, e ho selezionato anche il contorno. Ora che abbiamo selezionato tutti e due, dobbiamo portare il testo all'interno di questa cornice. Ed è molto semplice. Basta che andate in testo, inserisci in una cornice. E come vedete, il vostro testo è inserito. Faccio un po' di zoom, giusto per vedere meglio. Potete lavorarci un po' con il testo. Magari non si capisce tanto perché ho messo il sfondo giallo, ma non è quello il suo discorso, è giusto per farvi capire. Io magari lo duplicherò perché voglio che mi arrivi fino in fondo. Quindi, vado qui su testo, scusate, seleziono, faccio ancora CTRL V, e mi va a incollare lo stesso testo per due volte. Qui potete giocare. Questa è la dimensione del carattere, e questo è lo spessore tra le righe. Quindi, più le righe sono vicine, meglio è. Perché poi vedete il motivo. Il mio consiglio è di ravvicinare più possibile gli spazi tra le righe. Quindi, andiamo qua. Ok. Possiamo ingrandire un po' il testo, magari da 4, passiamo a 4,5. Ma credo che sia troppo. Sì. Facciamo un 4,2. Ovviamente dovete fare delle prove per capire qual è la migliore. Quindi facciamo un 4,2. E il testo così mi va bene. Anche se non mi va a coprire tutto, vediamo. Andiamo a modificarlo un po'. Ok. Perfetto. Questo è il testo che io vorrei inserire. Bene. Adesso dobbiamo selezionare testo e path 1, andare su tracciato e modificarlo da oggetto a tracciato. Andiamo a selezionare solo il path, il testo magari lo spegniamo un attimo, selezioniamo il cursore e andiamo a spostarlo che non ci serve. Andiamo a riaprire il nostro testo e abbiamo il testo all'interno della faccia. Ma non è finita perché così non dice niente. Il prossimo passaggio è il seguente. Questo qui potete anche cancellarlo, intanto non vi serve più. Andiamo a selezionare l'immagine e con CTRL D la duplichiamo. Come vedete si è duplicata. Come vedete qui dai livelli. L'immagine però la spostiamo sotto in fondo. In maniera da prendere la prima immagine e il testo. Infatti adesso dobbiamo selezionare la nostra prima immagine e il testo. Una volta che li abbiamo tutti e due selezionati, non dobbiamo fare altro che andare su oggetto, fissaggio, imposta fissaggio. E come vedete abbiamo creato le scritte all'interno del nostro leone. Quindi qua possiamo anche restringere fino ad arrivare. Sistemare un attimo il rettangolo. Ok. Ed ecco qui realizzata la nostra scritta all'interno del leone. Come vedete i passaggi sono molto semplici ma è interessante perché potrebbe essere un'alternativa alle classiche immagini che andiamo a fare. Ed ecco qui l'immagine incisa. L'ho incisa sul legno quindi non è la stessa cosa di vederla su una piastella. Ma questa è l'immagine incisa. Ve la faccio vedere da lontano in maniera che possiate capire che dove c'è la scritta si forma l'altra mezza faccia del leone. Ovviamente se avessimo una piastrella qua si vedrebbe il colore del leone perché si andrebbe a dargli quel marrone di sfondo che risalta molto di più anche sulla scritta. Ma purtroppo non avevo piastrelle disponibili e l'unica maniera è farvelo vedere su un pezzo di legno. Però vi consiglio vivamente di farlo su una piastrella o addirittura una tela. Forse è meglio la piastrella perché è lucida. Magari fate delle prove. Questa è un'alternativa molto interessante per realizzare delle immagini su piastrella. Come avete visto con Inkscape è molto facile. Basta che seguiate i miei passi e otterrete queste immagini. Ovviamente io ve la potrò vedere su un animale. Voi potete fare quello che volete. Basta che tracciate la cornice dove dovrete inserire il testo e il gioco è fatto praticamente. Con Inkscape si possono fare moltissime cose. Vi farò vedere passo per passo alcune cose interessanti che si possono fare con Inkscape. Ma vi assicuro che è molto vasto come programma. Infatti esiste da una vita. Ed è gratuito. Quindi potete utilizzarlo tranquillamente. Come avete visto c'è anche la possibilità di utilizzare la funzione nodi. E ve l'ho fatta vedere. Giusto per farvi capire quanto potente è questo programma qui. Comunque nel tempo vi farò vedere altre funzioni di Inkscape perché veramente questo programma è molto interessante. Ci sono molte funzioni che i vari CAD che noi usiamo per il laser non riescono ancora a fare. Benché il CAD, quello più importante che è Lightburn, sia abbastanza completo per le nostre esigenze. Però Inkscape ha quella marcia in più. E secondo me non è da sottovalutare. Soprattutto per fare queste cose qui. Per variare un po', per non fare sempre la stessa immagine. Ma adottare delle funzioni che secondo me sono molto interessanti. Bene, io spero che vi sia stato d'aiuto anche questo video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!